Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il telegiornale. In apertura ci occupiamo ancora di Venezia. Con l'iniziativa benefica Ava for Venice, gli hotel che fanno parte dell'associazione veneziana albergatori chiederanno a tutti i loro ospiti un contributo di un euro per la città che verrà versato sul conto aperto dal comune per far fronte ai danni della marea eccezionale dei giorni scorsi. Per tutto il 2020 gli albergatori aggiungeranno un euro per Venezia al conto della stanza e posizioneranno una cassettina in reception per raccogliere le donazioni. E Venezia continua a reagire agli enormi danni che ha subito. Tutti sono al lavoro per ripartire anche se ovviamente la situazione è tragica. Parliamo ovviamente dei danni. Sentiamo il servizio. A Venezia si contano ancora i danni. Serve tempo per avere dei numeri certi. Per il momento i danni ammonterebbero ad una cifra che si aggira intorno al miliardo di euro. Tutte le chiese veneziane sono pesantemente danneggiate. È la settimana peggiore nella storia della città. Dal 1872 non si verificava una situazione simile. Tra i danni peggiori dell'acqua alta di Venezia emergono quelli subiti dalle colonne esterne della Basilica di San Marco, parzialmente frantumate alla base. Le colonne verranno sostituite, non restaurate, affermano i responsabili dei lavori. Danni rilevanti anche ad alcuni mosaici del pavimento, tra cui quello raffigurante due pavoni nella navata destra della Basilica. A subire danni enormi nel corso del dramma che ha colpito il capoluogo Veneto, ci sono le attività commerciali, tra cui la storica libreria Acqua Alta di Venezia, tra le più suggestive al mondo. Centinaia di libri sono ormai persi. Inizia però un lavoro di recupero da parte di alcune biblioteche della zona. Numerosi libri sono in partenza per Bologna, dove subiranno un processo che li renderà asciutti, compressi, ma non toglierà le macchie che saranno un pezzo della loro storia. All'indomani del dramma emerge lo spirito di rinascita dei veneziani. Numerose sono le associazioni e gli abitanti scesi in strada per dare una mano concreta alla città. Diversi giovani provenienti da tutto il Veneto hanno creato delle campagne social per organizzare gruppi di volontari e alcune associazioni hanno aperto una raccolta fondi per risollevare il capoluogo Veneto. Ad aderire a questa iniziativa anche i campionati di calcio di Serie A e Serie B, fondi in arrivo nei prossimi giorni anche dalla Russia, che tramite l'ambasciata italiana Mosca ha raccolto un milione di euro per sostenere la restaurazione del patrimonio culturale di Venezia. I carabinieri nel Padovano hanno smantellato un traffico di droga tra minori giovanissimi. Le indagini dei militari di Legnaro in provincia di Padova hanno permesso di ricostruire almeno 500 cessioni e il sequestro di un etto di droga. E' emerso un giro gestito da giovanissimi. Anche gli accordi sulle cessioni erano gestiti con i modi più familiari agli adolescenti, che infatti ordinavano addirittura lo stupefacente sfruttando le foto con autodistruzione di Instagram, convinti così di non lasciare traccia. Alla fine un 17enne è stato arrestato e posto ai domiciliari e sette suoi coetanei sono stati denunciati. Alle 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 45 nei pressi del parco Valcorba, nel comune di Pozzonovo, in provincia di Padova, in seguito ad un incidente che ha visto un camion rovesciato su un fianco dopo la perdita di controllo da parte del conducente che è rimasto ferito. I pompieri sono arrivati da estero Vigo con due automezzi, tra cui l'autogru. Hanno messo in sicurezza il camion, mentre l'autista, riuscito a venire fuori autonomamente, è stato preso in cura dal personale del 118 e trasportato all'ospedale. Operazione dei carabinieri nel Padovano che hanno ricostruito le fasi di una rapina compiuta in una sala slot di mestrino. Incredibile ciò che è emerso ed ora i responsabili sono stati tutti identificati e ovviamente subiranno le conseguenze. Guardate le immagini e sentite questa storia incredibile. Immagini che fanno rabbrividire quelle che riprendono le fasi della rapina compiuta ai danni di una sala VLT a Mestrino in provincia di Padova. Il dipendente era stato legato e costretto a stare in ginocchio, colpito con un calcio da due banditi che si erano appropriati di 8 mila euro contenuti in cassa. Quelle immagini assieme ad altri dettagli hanno permesso ai carabinieri della stazione di Mestrino di ricostruire in breve tempo tutto il fatto e scoprire che si trattava di una simulazione messa in atto da un dipendente assieme a due complici. Effettivamente hanno rubato il denaro ma la vittima dell'agguato era in accordo con i due rapinatori. Nella prima fase di indagine era stato il complice del colpo a finire in carcere. Nelle ultime ore gli uomini dell'arma hanno identificato l'uomo che indossava il casco e per il quale è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ma le indagini hanno evidenziato che l'uomo legato, dipendente della sala, in realtà era in accordo con i malviventi. Aveva fornito le indicazioni precise per asportare la somma di denaro costituente il bottino, simulando pertanto una rapina vera e propria. Nei confronti di quest'ultimo è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Incidente mortale oggi a Fiesso d'Artico in provincia di Venezia. Sulla strada della riviera del Brenta un camion ha travolto un ciclista. Un incidente che non ha dato scampo all'uomo che si trovava alla guida della bici. La vittima era del posto, aveva 65 anni. La dinamica del terribile investimento dovrà essere ricostruita. Ha patteggiato una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione un giovane poco più che ventenne che ha avuto un rapporto con una minore. I fatti risalgono a settembre 2018. I due giovani erano stati ad una festa di compleanno insieme, conoscendosi quella sera lì, a quanto pare anche piacendosi. Avevano bevuto qualche bicchiere di troppo e si erano appartati. In quegli istanti nascosti, nonostante la giovane dicesse di no, lui avrebbe continuato a circuirla fino ad abusare di lei, nonostante il rifiuto. Pochi giorni dopo, la giovane si era rivolta al pronto soccorso, raccontando l'episodio. Lei non ha fatto denuncia, ma questa, in considerazione della giovane età, 16 anni, è partita in maniera automatica. Il ragazzo ha subito il processo con la conseguente condanna. E adesso parliamo di un'esercitazione davvero molto bella per i giovani delle scuole, mi pare della provincia di Treviso. Parliamo di operazione scuola sicura. La protezione civile ha incontrato i giovani studenti. Sentite. Sono state le scuole primarie e le secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Follina a Tarzo, le protagoniste odierne della tappa di Scuola Sicura Veneto. Come di consueto, l'esercitazione ideata dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin si è aperta con una doppia prova di evacuazione, causa incendio e sisma, con tutte le varie procedure, dall'allarme, l'avvio delle procedure, l'evacuazione propriamente detta e il recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Successivamente, sotto la guida tecnica del personale regionale dell'assessorato e della Direzione Protezione Civile, insieme ai vigili del fuoco, alle forze locali di polizia, al SUEM, all'Associazione AVAB e Protezione Civile di Tarzo e Revine Lago, pre-Alpi, soccorso di Vittorio Veneto e vigili del fuoco in congedo, si è svolta un'analisi delle azioni compiute da alunni insegnanti. Nell'area esterna sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d'emergenza intervenuti, tra cui anche l'atterraggio dell'elicottero del 118 ed è stata simulata un'azione di soccorso. Nel suo intervento, l'assessore Bottacin, rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato la speranza che, da adulti, ha detto, sarete anche voi tra i tanti soccorritori del Veneto, così da continuare la grande tradizione del nostro sistema e dei nostri volontari, che, come ha detto qualche mese fa anche il Presidente della Repubblica, in occasione di VAIA, ha dato una lezione di protezione civile. Al termine della mattinata è stato consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile. Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Chioggia ha sequestrato a Cavarzere un'area di 1790 metri quadri e un immobile di 300 metri quadri adibito a gestione non autorizzata di circa 600 metri cubi di rifiuti. La scoperta è stata fatta durante l'attività di controllo del territorio, dopo l'avvistamento da parte di un elicottero delle fiamme gialle. Il deposito raccoglieva rifiuti che si sospettava derivassero anche da attività produttive di carattere industriale. In occasione della giornata internazionale dei diritti e degli adolescenti sono state numerose le celebrazioni che si sono svolte e quelle che si svolgeranno anche. Noi siamo andati a Selvazzano, in provincia di Padova, dove si è svolta un'iniziativa particolare che vi raccontiamo nel prossimo servizio. In occasione della giornata internazionale dei diritti dei bambini e del trentesimo anniversario dell'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'amministrazione comunale di Selvazzano, in provincia di Padova, ha consegnato mercoledì l'albero dei diritti. Lo ha dato al Centro Infanzia Maria Montessori di San Domenico, alla Scuola di Infanzia San Pio X di Selvazzano Dentro, al Centro Infanzia Aquilone di Caselle, Scuola dell'Infanzia Mamma Margherita di Caselle, alla Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata, Istituto Cleyr a Tencarola e all'Asilo Nido Pulcino a Ferriole. Ad un anno dall'intitolazione del nostro parco Diritti dei Bambini di Via dei Mille, afferma il sindaco della città Giovanna Rossi, festeggiamo assieme i 30 anni dall'adozione nel 1989 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, portando nelle scuole un piccolo albero, simbolo dell'accoglienza e dell'aver cura dell'altro. Alla giornata è intervenuto anche il consigliere delegato alla pubblica istruzione Jessica Sarli, che ha spiegato abbiamo proposto alla Scuola dell'Infanzia dei piccoli laboratori per far comprendere ai bambini il significato di alcuni loro diritti. L'idea è stata ripresa da un progetto Unicef, che utilizza l'albero come metafora, sostenendo che i bambini e i ragazzi crescono più forti, robusti, capaci di resistenza, di autonomia e creatività, quanto più ricco di risorse e opportunità e il contesto ambientale in cui vivono. Una notizia che arriva dal mondo della sanità. Il dottor Davide Pernice è il nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, reparto in cui da giugno scorso ricopriva il ruolo di coordinatore e facente funzione. La nomina del dottor Pernice è avvenuta oggi con firma dell'apposita delibera di incarico da parte del direttore generale dell'Ulse 6, Domenico Scibetta, a seguito di concorso pubblico. E dunque per domani le previsioni del tempo indicano una tregua, anche se il cielo sarà nuvoloso, non sono previste precipitazioni. Purtroppo una nuova ondata di maltempo è alle porte, quindi non è escluso che faccia il suo ingresso da dopo domani. Naturalmente poi nella prossima edizione vi daremo tutti gli aggiornamenti climatici. Siamo arrivati al termine di questo spazio dedicato al telegiornale. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie per l'attenzione e vi informazioni